Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla mobilità a prudenza per vento forte su gran parte della Toscana. Segnaliamo questo proposito di vieto di transito per Teronati, Furgonati e Caravan, in A11 tra Firenze e Peretola e la Statale 1 Aurelia, e in A12 tra Pisa Centro e la Statale 1 Aurelia. In A1 inoltre, prudenza per Nevischio tra Rioveggio e Aglio. Il vento forte provoca disagi anche per il trasporto ferroviario. Sulla linea Siena Chiusi, per presenza di vegetazione trasportata da forte vento nei pressi della sede ferroviaria, i treni viaggiano a velocità ridotta tra Rapolano e Rigomagno e potranno subire sino a 15 minuti di ritardo. Per la stessa motivazione, sulla linea Firenze-Roma, linea lenta, i treni da e per Arezzo procedono a velocità ridotta all'altezza della stazione di Ponticino. E ancora, per evento meteo eccezionale dalle 6.45, criticità tra le stazioni di Massa Centro e Forte dei Marmi. In corso, l'intervento dei tecnici FS. Prima di salutarci, per maltempo sono cancellati traghetti Piombino-Rio Marina delle 8.20 e Piombino-Cavo delle 8.40. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!